Il cerchio si stringe, monti lattari blindati ed attenzione massima nella zona di Sant'Antonio Abate. All'indomani dei funerali si intensifica il lavoro di ricerca sull'omicidio di Carlo Cannavacciuolo, il veterinario 27enne ucciso nella notte tra venerdì e sabato durante una rapina nella zona di Santa Maria la Carità. Il PM ed il procuratore capo hanno raccolto i pochi elementi a disposizione e concordato i prossimi passaggi investigativi. Al momento sono terminati i rilievi scientifici in via Ponticelli, il luogo del delitto, dove complice il maltempo alcune tracce sono state danneggiate. Gli investigatori stanno ora tentando di ricostruire il percorso di fuga degli assassini, sperando nella presenza di ulteriori tracce nelle campagne limitrofe, dove i due balordi avrebbero potuto gettare mozziconi di sigarette, lasciare tracce ematiche, impronte di scarpe o occultare l'arma del delitto. Al vaio anche i filmati delle telecamere di sorveglianza del paese, che però al momento non sono stati di grande aiuto. Gli inquirenti stanno comunque cercando altri eventuali testimoni, si cerca infatti di capire se qualcuno nei pochi locali aperti in zona all'ora del delitto possa aver visto qualcosa. Ma per ora l'unico elemento di indagine è stato fornito dalla fidanzata della vittima, che ha descritto fisicamente gli assassini ed ha individuato nella loro parlata un dialetto delle zone limitrofe. Su questo si base infatti l'unica certezza degli inquirenti che sono convinti che i delinquenti siano dei paesi confinanti, poiché nel fine settimana i rapinatori tendono ad agire non nella stessa zona in cui vivono, ma in quelle immediatamente vicine per poter tornare rapidamente al riparo. Quindi caccia aperta ad alcuni pregiudicati della zona ed allerta massima nel paese di Sant'Antonio Abbate. Grazie.